Le scarpe ti stanno bene, anche i jeans ti danno parecchio Ok, 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 ok Le scarpe di me le prime miei non mi piacciono Sì, sì, queste foto andranno bene, soprattutto per le forme Ok, ok, ok Le dobbiamo inviare a questo dente qua Vedete, ok, a quest'altro, va bene Le inviiamo a quest'altro Adesso voglio vedere cos'altro dirai Ah, vedete che mi fermeranno? Ma non sanno E nessuno può fermare chi nessuno è Grazie a tutti